Cassa dottori commercialisti, Presidente Distilli, la riforma del sistema previdenziale fu lungimirante. Nell'ambito del Previdenza in Tur, ieri mattina i dottori commercialisti si sono ritrovati al Castello Maniaci a Seracusa per fare il punto sui 20 anni di applicazione della riforma del sistema previdenziale che grazie al metodo contributivo ha creato una forte sostenibilità finanziaria. Abbiamo preso in prestito la parola greca kairos che significa il momento giusto e il momento in cui, 20 anni fa, chi ci ha preceduto si è posto il problema di interpretare quello che sarebbe stato il futuro del nostro sistema pensionistico, ha spiegato Stefano Distilli, Presidente della Cassa dottori commercialisti, intercettando le dinamiche di un sistema che con le vecchie regole non sarebbe stato in grado di pagare le future pensioni. E' stata adottata una radicale riforma che ci ha portato al regime retributivo al regime contributivo. Nel corso dell'incontro è intervenuto l'economista Tito Boeri che ha ricordato la lungimiranza dei commercialisti. Celebriamo i 30 anni dalla privatizzazione e i 20 anni dalla riforma, ha detto. Guardiamo a cosa potrà accadere tra 30 anni. Tre sfide cruciali. La demografia, il progresso tecnologico e il rapporto tra pubblico e privato. La tavola rotonda ha preso parte anche il Presidente del Centro Studi e Ricerca Alberto Brambilla e in collegamento dal Portogallo anche l'ex ministro Elsa Fornero, come riporta l'agenzia ANSA.